Lo sport come occasione di rinascita, valori come speranza, coraggio, inclusione. Lo sport è al centro dell'evento che si è tenuto il 2 dicembre intitolato Ispirazione e Coraggio, le leve per l'inclusione, organizzato da Teleperformance Italia in collaborazione con Obiettivo 3, la società sportiva paraolimpica fondata da Alex Zanardi che sostiene le persone disabili che vogliono intraprendere un'attività sportiva. L'appuntamento si inserisce all'interno della 4 Weeks for Inclusion, il più grande evento interaziendale ideato da team dedicato all'inclusione. Lo sport per Teleperformance è un elemento fondamentale. Attraverso lo sport si migliorano le proprie capacità di interazione con le persone. Lo sport è passione, è trasferire emozioni, ma è anche migliorare il proprio corpo. L'incontro con Obiettivo 3 è stato un momento magico. circa un anno fa abbiamo incontrato un ragazzo di Taranto che a simile un incidente ha perso l'uso delle gambe. La sua grande forza, il suo grande coraggio, gli ha fatto iniziare ad innamorarsi dell'handbike. Il sogno più grande che in quel momento lui aveva era andare alle Paralimpiadi. Il prossimo appuntamento Paralimpiadi di Parigi serviva però un mezzo più tecnologico. Teleperformance gli ha regalato la Ferrari delle Ferrari delle Ferrari delle Handbike. Da lì è partita la sua rincorsa al tempo per andare alle Paralimpiadi di Parigi. Una collaborazione che si è rafforzata e che andrà avanti anche in futuro. Continueremo insieme, continueremo su mille altri progetti perché per noi le persone sono il centro del progetto. Le persone sono quello sul quale è fondata il Teleperformance. Sport, disabilità, inclusione al centro delle storie che hanno condiviso i partecipanti all'evento. Un'ora di racconti e vissuti personali dai quali si coglie con chiarezza quanto sia insita nel genere umano la capacità di rinascere e di reinventarsi. Tra me lo sport ha dato tantissimo, soprattutto mi ha dato il coraggio. Perché io amo sempre ricordare una frase bellissima di Oriana Fallaci che dice che il coraggio è fatto di paura. Le paure sono tante, soprattutto quando la diagnosi di una malattia come è capitato a me piuttosto che a un'altra persona a cui ha avuto un incidente e quindi che è rimasto disabile per qualsiasi motivo. La vita ci mette alla prova, la mia è stata questa, altre persone ne hanno avuto altre. Mi ha dato il coraggio perché mi ha dato il coraggio di ricominciare. Obiettivo 3 è stata un po' la scintilla che mi ha dato il coraggio di venire fuori perché fino ad allora nessuno sapeva della mia patologia.